Amiche e amici di Rossini TV, siamo ad Urbino di fronte all'ingresso del nuovo polo didattico Petriccio. Viene inaugurato questa mattina un momento molto importante per la città di Urbino, per l'Ateneo, perché tutto questo ha una storia lunghissima che andremo a scoprire, ha una storia sviluppata nel tempo che finalmente arriva al primo step di questo compimento. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Queste aule sono effettivamente un'aggiunta importante per le strutture didattiche dell'Ateneo, soprattutto vanno a colmare una mancanza di aule di una certa dimensione, che eravamo costretti a compensare ad esempio col cinema, con altre situazioni non adatte. Quindi è un miglioramento significativo per la qualità della didattica, per la qualità di studio dei nostri studenti e ovviamente anche una valorizzazione di questo spazio anche per il comune di Urbino, per la città. È un progetto che viene da lontano perché appunto già De Carlo aveva ideato quest'area, ma abbiamo dovuto adeguarla perché purtroppo ci sono volute parecchie modifiche, variazioni, variazioni di molte varianti. La prima fra tutti per dividere le aree tra i privati, l'università, l'Asur, perché questa è un'area di comproprietà di molti proprietari. Quindi abbiamo dovuto fare diversi processi che chiaramente ricalcano quella che era l'idea originale, ma viene modificata in molte parti perché così come era stata pensata all'inizio non era fattibile, non era così realizzabile. C'è una grande soddisfazione anche solo pensando che otto mesi fa in quest'area dove siamo c'era livello zero, non c'era niente. Quindi abbiamo realizzato un'opera che aiuterà i nostri studenti a vivere delle esperienze di aula confortevoli ed entusiasmanti in tempi che normalmente i lavori pubblici nel nostro paese non sono previsti. Devo dire che l'università è stata molto solerte nel procedere dopo gli interventi che abbiamo fatto di comune accordo proprio per sbloccare quest'area del pretricio, ma esce anche dal punto di vista didattico, non solo dal punto di vista murario, perché chiaramente questa struttura che è stata realizzata così anche molto velocemente è l'inizio di un percorso di tutto lo sviluppo di quest'area che comprende poi anche le palestre per scienze motorie, ma comprende lo studentato, comprende veramente uno sviluppo di un'area che era ferma da 40 anni, quindi chiaramente come amministrazione siamo molto soddisfatti di questo processo di sviluppo che l'università insieme all'amministrazione comunale sta portando avanti.